Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, Ignazio Boschetto ha annunciato la sua intenzione di sposare la sua fidanzata, Michelle Bertolini. Questa notizia circolava già da un po' di tempo, ma Ignazio ha recentemente fatto la proposta alla sua compagna con un anello. Michelle, nata nel 1994, è una modella e tennista originaria di Caracas, con madre venezuelana e padre triestino. È stata vincitrice del concorso di Miss Venezuela nel 2013 e ha partecipato a vari concorsi di bellezza. La relazione tra Ignazio e Michelle è stata resa pubblica dalla stessa Michelle tramite un post su Instagram, dove ha condiviso la proposta di matrimonio di Ignazio. Nonostante il loro rapporto sia abbastanza recente, i due hanno deciso di unirsi in matrimonio. Ignazio, in passato legato a un'altra donna fino al 2022, ha sempre mantenuto riservata la sua vita privata. La data del matrimonio non è ancora stata annunciata, ma i fan attendono con ansia ulteriori dettagli.